Aumentare le presenze straniere è l'obiettivo di Marina dei Cesari, che ha presentato in una conferenza stampa il nuovo progetto per rilanciare il porto turistico di Fano. Negli ultimi anni, infatti, la crisi economica e la politica fiscale hanno gravemente danneggiato il settore nazionale della nautica, portando uno squilibrio fra il numero totale di barche in circolazione, e cioè 90.000, e i posti barca disponibili, ben 150.000. Inoltre, il tasso di presenza straniera nei porti italiani si aggira attorno al 10%, contro un 35-50% nei paesi concorrenti del Mediterraneo, come Croazia, Turchia, Spagna e Francia. A parlare della nuova strategia locale è stato il presidente di Marina dei Cesari, Alberto Cazziol. Abbiamo deciso di lanciare un progetto strutturato, organico, per promuovere e rilanciare il porto turistico attraverso il territorio marchigiano, partendo in particolare dalla provincia di Pesorurbino. E per fare questo sono stati stabiliti tre passaggi. Il primo sarà quello di portare il territorio e il porto in casa dei clienti stranieri, con lo scopo di suscitare il loro interesse. Un obiettivo che verrà raggiunto grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi mezzi di comunicazione, ma non solo. Attivando delle iniziative, coinvolgendo delle specie di ambasciatori che vadano a presentare la nostra realtà nei mercati che ci interessano di più, come la Germania, la Svizzera, l'Austria, eccetera. Il secondo punto consiste invece nel portare la nostra provincia dentro al porto, e cioè organizzando edenti e posizionando all'interno dell'area portuale cartelloni e totem con i prodotti tipici locali. Il terzo invece sarà quello di rendere facile ai diportisti la fruizione del territorio, con informazioni, prenotazioni e trasporti. Fino ad arrivare all'utilizzo della realtà virtuale. Per questo abbiamo iniziato a studiare anche in collaborazione con le realtà locali, l'Università di Ancona, e intendiamo coinvolgere anche altri soggetti capaci di sviluppare ricerca in questo campo, trovare il modo di rendere visibile, fruibile il nostro territorio nel modo più vivo e immediato possibile, anche al cliente tedesco che se ne sta seduto a casa sua, davanti al suo pc, eccetera. Questa è la base, diciamo, del nostro progetto. Grazie a tutti.